accolti con una grande festa la scuola nolli dell'hollis di chieti quattro piccoli ucraini che tornano sui banchi grande il lavoro della dirigente del comprensivo uno grazie a angeloni e dell'assessore comunale teresa giammarino cacti via di là molto bene tutto bene tutto bene tutto bene loro si chiamano anastasia e michita chiediamo il russo se stanno bene dicono di sì e la loro mediatrice culturale sofia conferma e ci svela un particolare chissà di speranza qui siamo alle materne prima mi ha detto una cosa bellissima che ti ha chiesto anastasia anastasia mi ha chiesto scrivere mamma mi è piaciuto molto l'asino cac di bia savut maxi dalle materne alle elementari dove ci sono daniele e maxima grazie bene sono stati accolti con una grande festa soprattutto dagli altri compagni ci dicono l'accoglienza è stata veramente una esperienza toccante ieri perché ricorreva proprio ieri 17 marzo il 161esimo anno dell'unità d'italia la nostra nazione è stata dichiarata unita non è a caso che proprio ieri è avvenuta questa mirabile integrazione dei piccoli dei bambini ucraini che sono stati accolti mirabilmente dai nostri alunni della nolli dell'hollis e che veramente sono all'occorrenza stati già integrati nonostante la questione della lingua però anche qui abbiamo in atto integrato fatto intervenire numerose risorse del territorio e anche la chiesa ortodossa primo giorno di scuola per questi bambini cosa hanno detto sono stati felicissimi intanto i piccolini di cinque anni subito si sono messi a lavorare e con le maestre di sezione hanno realizzato dei disegni ed è un fatto importante che abbiano disegnato per prima cosa il sole un sole grande dal colore sgargiante di un giallo sgargiante scelto proprio da loro un prato delle casette e tanti compagni tanti bambini che si tenevano per mano il nostro sindaco insieme a tutti noi con tutta l'amministrazione ha attivato l'unità di crisi proprio per poter raccogliere parlando appunto di scuola questi piccoli nostri bambini scappati dalla guerra e sono stati subito una volta sistemati dal punto di vista di questura, prefettura, ASL subito c'è stata disponibilità da parte delle istituzioni scolastiche all'accoglienza in modo da poter essere subito integrati e poter dal punto di vista ludico e tant'altro essere di nuovo a gioire Come si sono trovati secondo te? Come hanno vissuto questi primi giorni? Penso che era per loro il stress però adesso io vedo che si stanno abituando piano piano e sono sicura che poi loro non vorranno andare da qua, sono sicura perché è un posto meraviglioso per questi bambini Il saluto più bello che Anastasia potesse farci Ciao Anastasia Mer Mer, pace in russo e in ucraino Mer, pace in russo e in ucraino Mer, pace in russo e in ucraino